Buongiorno trader e benvenuti al tutorial completo della piattaforma di ProRealTime. In questo video andremo ad analizzare le principali caratteristiche della piattaforma, dalle più semplici alle più avanzate. Questo è un video che va bene sia per i trader neofiti, sia per i trader esperti che desiderano cambiare la propria piattaforma. Se non siete ancora registrati al canale iscrivetevi subito ed attivate le notifiche e la campanella per restare sempre aggiornati sui nostri prossimi video. Siete pronti ragazzi? Allacciate le cinture che partiamo! Iniziamo adesso il nostro viaggio all'interno della ProRealTime. Nella parte in alto a sinistra abbiamo il nostro menu, quindi abbiamo File, Visualizza, Trading, Oggetti, Impostazioni e Aiuto, tutto quello che ci servirà per andare a impostare la nostra piattaforma. Nella parte subito sotto invece abbiamo la barra degli strumenti, che ci servirà invece per quanto riguarda analisi tecnica e analisi grafica. Nella parte sinistra abbiamo le liste, vedremo come creare una lista nuova, come andare a modificare le impostazioni della lista esistente. Nella parte centrale abbiamo l'Order Book, nella parte poco sotto abbiamo Performance e Posizioni Aperte, nella parte in basso a destra invece abbiamo quella che sono la lista degli ordini, quindi gli eseguiti, gli ordini in attesa, i cancellati, i contingent orders e il trading automatizzato, piuttosto che tutti gli ordini. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio ogni singola area di questa piattaforma, quindi andiamo a vedere proprio nel dettaglio tutte le caratteristiche della ProRealTime. Partiamo con il menu in alto a sinistra. Nella parte File abbiamo i piani di lavoro. Questi sono estremamente importanti. Che cos'è il piano di lavoro? Il piano di lavoro è questo, ovvero la nostra dashboard. Tutto quello che noi andiamo a personalizzare, che andiamo a creare ad hoc per la nostra operatività, l'andiamo ad impostare sul piano di lavoro. Questo piano di lavoro può essere salvato e poi ripreso nel momento in cui andiamo ad aprire la piattaforma. Carica piano di lavoro possiamo andare a prendere il piano di lavoro predefinito da ProRealTime, piuttosto che uno dei piani di lavoro che abbiamo salvato. Come si salva un piano di lavoro? Andiamo in salva con nome, ci verrà chiesto di dare un nome al nostro piano di lavoro. In automatico andremo a cliccare salva. Il nostro piano di lavoro verrà riproposto sempre nel menu File tra questi piani di lavoro. Vedete che io ho salvato Desktop 13, per esempio, o il mio piano. Questi sono piani di lavoro differenti che io ho salvato. Nel momento in cui voi avete salvato un vostro piano di lavoro, potrete andare a salvarlo successivamente una seconda volta, se andate a modificarlo o inserire nuove impostazioni, facendo salva il mio piano o salva un altro piano in base a come l'avete chiamato. Per poterlo rinominare o eliminare andate in questa voce, quindi rinomina o elimina, oppure potete andare ad avviare su questo computer il vostro piano di lavoro, quindi dare un piano di lavoro di default che verrà sempre aperto in base a quello che utilizzate maggiormente e che rispecchia maggiormente le vostre caratteristiche operative, quindi assegnare una priorità ai diversi piani di lavoro. Nel menu file non abbiamo altre funzionalità da vedere, adesso vediamo invece un menu molto interessante che il menu visualizza, dove abbiamo le liste migliori e peggiori, il proscreener e altre funzionalità interessanti. Iniziamo subito con le liste. Se vogliamo aprire una nuova lista, abbiamo nuove liste disponibili e quindi possiamo cliccare qui. Alternativamente possiamo andare a modificare le impostazioni di una lista preesistente, in questo modo. Da questa schermata comunque possiamo creare lo stesso una nuova lista. In questo caso, per esempio, creiamo una nuova lista da questo pulsante, andiamo a cliccare nuova lista. Andiamo a inserire lista star, diamogli un nome qualunque e facciamo ok. In questo modo abbiamo la creazione di una nuova lista. Vedete qui che abbiamo liste predefinite, cioè liste preferite, le mie liste, quindi quelle che siamo andati a creare, piuttosto che liste predefinite. La nuova lista star è stata creata all'interno delle mie liste. Come faccio ad aggiungere strumenti all'interno della mia lista star? Come andare adesso ad inserire degli strumenti all'interno della nostra lista star? Facciamo aggiungi strumenti. Si aprirà una schermata, ricerca avanzata, tutti i mercati, tutti i tipi. Noi per esempio vogliamo aprire una lista, per esempio, su gli indici UK. Adesso andiamo ad inserire, per esempio, indice UK. Ok, vabbè, adesso in questo caso ce n'è solo una. Mettiamo azioni e andiamo a modificare in azioni UK, ecco. E qui avremo tutte le azioni UK, tutti i tipi. Quindi abbiamo tutto quello che possiamo desiderare. Possiamo andare a inserire tutti i settori, per esempio solo finanziari, e tutti i livelli di capitalizzazione. Questi sono vari filtri che si possono applicare all'interno della ProRealTime per poter andare a selezionare delle liste con i nostri parametri e i nostri criteri. Adesso a questo punto noi non faremo altro che fare esporta risultati nella lista. Andremo a scegliere la lista, la lista star, e in automatico, vedete qua nella nostra sinistra, apparirà la lista star con all'interno gli strumenti che abbiamo selezionato per la nostra lista. Vediamo adesso come possiamo andare a personalizzare la nostra lista. Nel menu in alto della finestra abbiamo diverse opportunità. Possiamo agganciare la nostra lista a un determinato grafico, per esempio la agganciamo a questo grafico di destra, impostiamo tutte e due nel colore azzurro, nel momento in cui andremo a modificare, quindi andremo a selezionare un determinato tipologia di strumento, si andrà a modificare il nostro grafico di destra. Adesso noi lo riagganciamo nella parte bianca, in modo tale che tutti i due grafici siano agganciati alla stessa lista, però avete la possibilità, diciamo, di agganciare un singolo grafico ad ogni singola lista, oppure tutti insieme. Per vedere magari differenti tipologie di time frame sullo stesso strumento. Sempre nella parte in alto abbiamo la possibilità di andare a vedere, per esempio, altre liste, quindi non faremo altro che andare a cliccare su altre liste e in automatico andremo a vedere altre liste. Altrimenti potrete duplicare una lista e avere più liste all'interno del vostro piano di lavoro, all'interno della vostra dashboard. In questo menu, invece, abbiamo la possibilità di aggiungere, eventualmente, altre tipologie di strumenti. Non farete altro che cliccare qui, per esempio, US Crude Oil e in automatico US Crude Oil andrà inserito all'interno della vostra lista, vedete, è in questo punto. Poi, se andate in impostazioni, si aprirà questo menu, che è il menu che abbiamo visto in precedenza, dove avete poi l'opportunità di andare, per esempio, a duplicare la lista, a creare una nuova lista, a rinominarla, piuttosto che andare nel menu opzioni, che è un menu di impostazioni della piattaforma. Adesso chiudiamo questo menu e andiamo a vedere le altre opportunità. Avete poi la possibilità di andare a, vediamo un attimo qui, ecco questo, andare a spostare in su e in giù, piuttosto che a visualizzare, vedete, potete visualizzare la ProRealMap in vari modi differenti. Vedete che in questo caso, per esempio, la impostiamo in questo modo e la ProRealMap apparirà nella parte sinistra della vostra finestra. Quindi avete questa opportunità di visualizzazione. Adesso togliamola per un momento ed andiamo a vedere invece la possibilità di condivisione. Avete la condivisione, per esempio, potete condividere tramite i social media, potete stampare, mandare per email, salvare, piuttosto che esportare in CSV. Infine avete la lista tick per tick, quindi tutti i tick degli strumenti che avete, quindi l'ultimo prezzo battuto, degli strumenti che avete all'interno della lista. Vediamo adesso, invece, altre funzionalità, sempre del menu visualizza. Abbiamo migliori e peggiori, creiamo una finestra migliori e peggiori. In questo caso non dovrete fare altro che andare a selezionare la zona geografica, per esempio, di vostro interesse. Mettiamo, per esempio, gli Stati Uniti. Decidiamo di avere, per esempio, la lista dei titoli Nasdaq. Andiamo a inserire i titoli Nasdaq. Lui non farà altro che dare i migliori e i peggiori. Potete poi filtrare per valore rialzo, valore ribasso, gap open, oppure gap open, ribasso o rialzo. Avete la possibilità di mettere altri filtri, per esempio, anche per time frame. Anche in questo caso, potete andare a condividere, stampare, condividere sui social media, creare un PDF, piuttosto che altre tipologie di funzionalità. Avete anche qui la ProRealMap, quindi non farete altro che cliccare su ProRealMap per aggiungere la ProRealMap alla vostra visualizzazione. Vediamo adesso, sempre nel menu visualizza, per esempio, il ProScreener. Il ProScreener è molto interessante perché vi permette di poter andare a selezionare determinate tipologie di strumenti in seconda dei vostri criteri di scelta. Quindi, apriamo il ProScreener, vediamo come funziona. Il ProScreener, andiamo a creare un nuovo ProScreener. Il ProScreener, quindi, vi permetterà di andare a mettere delle condizioni e poter andare a selezionare i titoli in base ai vostri filtri. Mettiamo, per esempio, condizione del ProScreener semplificato, per esempio, la chiusura, il prezzo, per esempio, maggiore o uguale, barra in corso, maggiore o uguale, per esempio, al periodo, non so, a due periodi fa. Quindi, a seconda di come avrete impostato il vostro time frame, sarà due periodi, quindi può essere due giorni, piuttosto che due periodi di 5 minuti, piuttosto che due periodi di 15 minuti. Quindi, avete il prezzo maggiore o uguale al prezzo di due periodi fa. Questa è una condizione, lui vi selezionerà tutti i titoli che rispecchiano questi determinati requisiti su un determinato mercato. Quindi, noi dobbiamo selezionare il mercato nel quale vogliamo che lui applichi questi filtri, quindi, per esempio, andiamo a selezionare la mia lista, andiamo, per esempio, sempre nella nostra lista star, lui eseguirà il ProScreener e vi darà quelli che sono i titoli che vanno a rispecchiare il nostro filtro. Anche qui, le funzionalità del menu della finestra sono identiche a quelle di tutte le finestre della ProRealTime, quindi, con la possibilità di impostare, con la possibilità di andare a inserire la ProRealMap, piuttosto che andare a condividere. Queste sono le caratteristiche di tutte le finestre della ProRealTime. Come abbiamo detto in precedenza, il ProScreener è una funzionalità estremamente interessante. Vi permette di fare sia creazioni semplificate, quindi senza la conoscenza del codice, sostanzialmente, sia creazioni per programmazione. Quindi, se conoscete la ProBuilder, il linguaggio di ProBuilder, avete l'opportunità di andare a modificare il codice e di andare ad impostare quello che è il vostro ProScreener a livello di programmazione, altrimenti potete usare semplicemente le condizioni del ProScreener. Potete poi, inoltre, andare a utilizzare dei criteri di selezione in aggiunta a quelle che sono le condizioni del ProScreener che avete definito in precedenza. Lo potete andare a fare andando poi a utilizzare determinati tipologi di parametri. Per esempio, potete utilizzare non soltanto dei prezzi, ma anche dei indicatori. Quindi, non vi farà altro che selezionare una zona specifica del grafico per scegliere l'indicatore utilizzato come criterio di filtro. Quindi, all'interno del vostro grafico non farete altro che andare ad utilizzare un indicatore. Quindi, è possibile fare un ProScreener sia a livello di prezzo, sia a livello di indicatore. Quindi, avete delle opportunità estremamente ampie da applicare all'interno del vostro ProScreener. Per andare a selezionare, ripeto così facciamo un breve recap, andare a selezionare tutti i titoli o tutti gli strumenti che rispecchiano quelle che sono le condizioni che volete applicare. Quindi, vedere e fare uno Screener di mercato per avere quelli che sono il filtraggio delle vostre impostazioni e vedere quei titoli che rispecchiano le vostre condizioni. Passiamo adesso al ProReal Trend Detection. Che cos'è? Il ProReal Trend Detection vi permetterà di andare a vedere quelli che sono i trend in atto su determinate tipologie di liste. Vedete che anche in questo caso abbiamo, per esempio, la possibilità di selezionare per area geografica, mettiamo di nuovo United States, per esempio Nasdaq, e qui vi filtrerà tutti quei titoli azionari che hanno e rispecchiano le caratteristiche sul time frame che avete definito che voi avete assegnato. Quali sono le caratteristiche che vi permette di impostare il ProReal Trend Detection? Vicino al supporto di un canale, quindi dinamica, vicino ad un supporto qualsiasi, rottura di un supporto orizzontale, quindi sia trend di tipo dinamici, sia trend di tipo statici. Vicino al supporto di un triangolo, quindi anche figure, di un canale, di un supporto qualsiasi, ad un supporto orizzontale, rottura di un supporto triangolare. Quindi avete l'opportunità veramente di filtrare ed ottenere quelli che sono una selezione di titoli impostati secondo le vostre esigenze. Adesso parliamo di quelli che sono gli ordini, quindi nel menu visualizza avete la possibilità di importare o comunque di creare un nuovo order book. Qui abbiamo anche un order book già preimpostato, quindi se noi facciamo un nuovo order book dal menu visualizza avremo un nuovo order book che è esattamente identico a quello che abbiamo già impostato sulla nostra dashboard. Quindi adesso per il momento lo chiudiamo e vediamo un attimo l'order book nel dettaglio. Qui vedete chiaramente che potete andare a comprare e vendere direttamente dall'order, ma come andare a fare le impostazioni? Allora qui potete agganciarlo a uno dei grafici che visualizzate, quindi se avete la possibilità di lavorare attraverso i grafici, quindi se voi desiderate lavorare attraverso i grafici, non farete altro che andare ad agganciare quello che è per esempio lo strumento a l'order book al vostro grafico, vedete azzurro, azzurro, nel momento in cui voi cambiate uno dei due, quindi per esempio vogliamo andare sul Germany, in automatico anche l'order book si modificherà, quindi potete avere anche due order book aperti o piuttosto che agganciare l'order book a uno dei grafici che avete aperto nella piattaforma. Adesso vediamo le impostazioni. Allora l'order book può avere delle impostazioni differenti, quindi nella parte bassa avete quelle che sono le varie opportunità, per esempio qui sulla sinistra avete l'opportunità di andarlo a impostare per esempio in verticale, adesso spostiamo un attimo l'order book in modo tale da vederlo meglio, ecco in verticale, oppure potete impostarlo orizzontalmente, oppure potete impostarlo nella modalità scalping che abbiamo visto in precedenza, oppure nel migliore bidask che sono quelli diciamo order book più piccolini semplici da gestire. Allora lo riportiamo a questo livello e vi faccio vedere che comunque anche all'interno del grafico avete la possibilità di passare l'ordine anche, vedete, compra e vendi con ordine stop e limite direttamente da qui, quindi avete l'opportunità di passare direttamente da qui. Adesso poi passeremo un ordine a mercato così andremo a vedere direttamente come funziona, vedete che qui abbiamo già un ordine a mercato nelle posizioni aperte, adesso andremo a vedere come si chiude un ordine, come si apre nuovamente un ordine partendo da zero. Vediamo adesso come si passa un ordine attraverso la ProRealTime. Possiamo farlo nel nostro order book, quindi in questo caso noi vogliamo passare per esempio quantità di lotti, 1, 3, 4, 5, potete cliccare per aumentare o diminuire, vedete, in maniera molto semplice il numero di lotti, potete impostare uno stop loss, in questo caso per esempio io ne ho impostato di 20 punti, ma potete impostarlo anche a livello di euro o di percentuale. in questo caso potete anche mettere sia lo stop che il target price, quindi il take profit, quindi un ordine limite che va a individuare esattamente il punto in cui volete chiudere l'operazione in gain. Qui abbiamo quindi questa opportunità che potete andare a modificare cliccando qui per attivare o disattivare e cliccando qui per aumentare o diminuire il livello di punti di euro o di percentuale. Adesso noi vogliamo per esempio andare a posizionare un ordine di compra, andiamo a comprare quindi tre contratti, quindi andiamo a comprarne tre, facciamo ok, vedete chiaramente che abbiamo comprato tre contratti, quindi in questo caso stiamo lavorando sui CFD, abbiamo inserito un limite, quindi lui ci dà un controvalore di 60 euro come take profit e un stop loss di 60 euro perché noi abbiamo messo i nostri 20 punti. Se ovviamente mettevamo euro 60 o euro 20 piuttosto che a livello di percentuale lui calcolava in base proprio alle percentuali o ai livelli di euro. Quindi vedete chiaramente che è tutto molto semplice, potete farlo anche col tasto destro, vedete mettendo acquisto o vendita a prezzo di mercato, nuovo ordine di acquisto, nuovo ordine di vendita, quindi avete anche questa opportunità di passarlo in questo modo. Oppure lo potete passare nel terzo modo che è quello tramite l'order book presente all'interno del grafico, quindi qui sopra. funziona nello stesso modo quindi fleggando sui punti oppure cliccando qui dentro potete andare a modificare sia a livello di quantità quindi di punti sia a livello di posizione quindi di esposizione sia a livello di percentuale. Quindi adesso vedete che è tutto molto chiaro e molto semplice. La vostra ordine apparirà poi nelle posizioni aperte quindi vedete qua che avete le posizioni aperte quindi avrete la possibilità di vederlo e negli ordini tra gli eseguiti vi apparirà nella prima riga tra gli ordini eseguiti a mercato. Vediamo adesso come si chiude l'ordine quindi noi vogliamo adesso andare a chiudere un ordine semplicemente possiamo chiuderlo cliccando sulla X all'interno del grafico oppure chiuderlo all'interno delle posizioni aperte. Noi adesso per semplicità lo chiudiamo all'interno del grafico vedete chiudiamo così lui non ci dice altro che ok vuoi chiudere si vogliamo chiudere e andiamo a chiudere la nostra posizione quindi vedete che qua scompare dalle posizioni aperte in automatico apparirà la nostra vendita quindi la nostra chiusura della posizione che abbiamo eseguito precedentemente. Quindi tutto molto semplice passare un ordine sulla Pro Real Time è piuttosto semplice e intuitivo l'interfaccia è piuttosto appunto abbastanza semplice e quindi non richiede diciamo grandi comprensioni e grandi studi per passare gli ordini. Vediamo quindi adesso nella parte bassa quelli che sono le varie opportunità quindi la posizione aperta all'interno del vostro portafoglio andiamo a vedere che nella parte alta avete la possibilità di vedere ad agganciare a quelle che sono anche gli direttamente i grafici perché anche questo è un modo per agganciarsi avete questa opportunità qui andrete a vedere avete le impostazioni per andare a personalizzare quello che è il menu del vostro diciamo del vostro portafoglio quindi potete aggiungere quelle che sono diverse voci per esempio degli icing potete vedere per esempio il mercato e qui vedete che sostanzialmente avete tutte le colonne che avete impostato con le vostre caratteristiche personalizzate potete poi andare a spostare vedete in modo molto semplice le vostre colonne in base alle vostre preferenze quindi questo menu è estremamente semplice potete andare anche nel menu impostazioni qui ed andare a vedere i gruppi di posizione piuttosto che le statistiche quindi qui avete l'opportunità di diciamo andare a personalizzare completamente quello che è il vostro portafoglio nella parte destra invece abbiamo quelle che sono le liste degli ordini abbiamo gli eseguiti gli ordini in attesa i cancellati rifiutati i contingent orders e i trading automatizzati qui avete possibilità poi di andare a filtrare vedete anche qui per le voci che volete andare a vedere nel vostro menu quindi potete andare a filtrare qualunque voce volete andare ad inserire per esempio nome portafoglio anche qui come precedentemente potete andare poi a spostare quelle che sono le voci all'interno della vostra finestra quindi tutto molto semplice molto intuitivo avete quindi la possibilità di vedere per esempio gli eseguiti se cliccate qui avete un dettaglio di quello che sono lo storico dello stato degli ordini quindi per singola operazione quindi non farete altro che cliccare qui per poter andare all'interno del vostro ordine quindi molto molto semplice negli ordini in attesa anche qui avete le impostazioni tutte le schede diciamo della finestra sono gestite in questo modo poi avete l'opportunità ovviamente poi anche di avere tutte le funzionalità del menu delle varie finestre che abbiamo visto in precedenza infine potrete andare anche a filtrare in base alla tipologia di time frame per esempio volete vedere solo le operazioni di oggi piuttosto quelle del mese scorso di un anno per un massimo ovviamente di 500 operazioni o di una settimana quindi avete anche il time frame disponibile per poter selezionare il diciamo la finestra da visualizzare adesso focalizziamoci sulla parte una delle parti più interessanti della pro real time ovvero i grafici l'analisi degli indicatori e tutta la parte di impostazione degli grafici stessi qui possiamo utilizzare sia gli strumenti della barra della barra in orizzontale quindi della barra degli strumenti per poter fare analisi grafica sia possiamo andare a utilizzare quello che è il menu sottostante il grafico stesso adesso partiamo con andare a vedere quali sono le potenzialità di impostazioni dei grafici all'interno della pro real time qui nella parte in basso del menu avete la possibilità di avere la barra degli strumenti in verticale quindi poi utilizzare la barra degli strumenti con questa tipologia di funzionalità cosa offre la barra degli strumenti la barra degli strumenti la potete personalizzare tramite impostazioni quindi nel menu in alto a sinistra che poi adesso andremo a vedere nel dettaglio qui potete andare a selezionare delle trend line per esempio vedete in maniera molto facile andate a impostare delle trend line con il tasto sinistro del vostro mouse potete andare a impostare dei supporti per esempio anche qui sempre tasto sinistro e rilasciate dove viene indicato anche il valore potete andare a inserire delle linee verticali dove viene identificata il tempo quindi esattamente dove la posizionate potete andare a inserire anche delle icone quindi delle possibilità per andare a vedere quelli che possono essere dei segnali operativi e potete andare a inserire molto altro in impostazioni qui potete andare a cliccare direttamente su impostazioni e avete la possibilità poi di andare a personalizzare ulteriormente se volete andare a cancellare avete questa opportunità che potete andare a cancellare o andare a inserire quello che è un alarm quindi adesso vedremo queste funzionalità tutte nel dettaglio vediamo per esempio gli alarm allora gli alarm non farete altro che andare a cliccare sulla campanella poi con il cursore avete vedete questo alarm noi possiamo decidere per esempio di impostare un alarm qua e quindi mettere una condizione per esempio il prezzo inferiore a questo valore e creare un alarm vedete che questo è molto semplice qui apparirà la campanella non farete altro che cliccarci nuovamente se volete magari andare a modificare qualche valore scatto in tempo reale il messaggio potete andare a inserire un messaggio piuttosto che un commento quindi avete veramente delle opportunità andare a flegare per avere via mail che oltretutto è gratuito inserite qua il vostro indirizzo email e andare a modificare quelli che sono i parametri se volete modificare poi cliccate su modifica allarme e lo andrete a modificare se volete duplicare un allarme qui avrete la possibilità di duplicare se volete cancellare l'allarme non farete altro che cliccare su cancella allarme quindi tutto estremamente semplice vedete che adesso l'allarme non c'è più e noi abbiamo impostato il nostro alarm quindi cliccate poi con il tasto andate con il mouse andate a vedere dove andarlo a impostare e rilasciate e mettete le vostre condizioni quindi tutto molto semplice creare un allarme sulla ProRealTime lo stesso poi vale per altre funzioni quindi avete la matita per esempio per segnare quelli che sono magari dei valori avete la lente avete righelli vabbè avete varie funzioni vedete per poter evidenziare per esempio a livello di percentuale un numero di barre quando volete cancellare un qualunque oggetto dalla ProRealTime non farete altro che cliccare sul tasto destro vi si apre questo menu a tendina cancellate vedete un singolo oggetto facendo cancella matita per esempio quindi voi con il vostro menu andate a disegnare aspettate un attimo che qui è partito ok andate a disegnare quello che è il vostro oggetto poi col tasto destro vi appare la configurazione quindi potete andare a impostare la matita con i contorni con i colori con i valori quindi potete fare quello che volete diciamo sempre col tasto destro potete duplicarla spostarla cancellarla oppure nasconderla quindi non la cancellate ma la nascondete da tutti gli oggetti adesso noi la vogliamo cancellare e la cancelliamo vedete molto molto semplice qui avevamo impostato un supporto orizzontale col tasto destro lo volete configurare per esempio e qui avete tutte le impostazioni di configurazione oppure volete andare a cancellare e andate a cancellare semplicemente sempre con il tasto destro potete lavorare all'interno del vostro grafico nella parte sinistra avete diverse opportunità nella parte sinistra in basso avete diverse opportunità invece qui abbiamo gli indicatori vedete qua possiamo aggiungere indicatori ai preferiti in modo tale che li possiamo trovare in maniera più veloce oppure possiamo addirittura inserirli all'interno del nostro grafico ProRealTime noi ad esempio vogliamo andare a inserire per esempio scegliamo una media mobile adattiva non farete altro che cliccare media mobile adattiva con il pulsante sinistro del vostro mouse e andare a inserire per esempio aggiungi indicatore noi adesso facciamo aggiungi indicatore e possiamo andare a inserire per esempio anche uno stocastico quindi vedete che adesso abbiamo due due indicatori all'interno del nostro grafico lo stocastico che viene posto al di sotto del nostro grafico perché fa parte di quegli oscillatori che non vanno inseriti sul grafico dei prezzi invece abbiamo la nostra media mobile adattiva all'interno del nostro grafico quindi vedete che qui abbiamo inserito un indicatore e un oscillatore in maniera molto semplice ora se volessimo noi poi andare a modificare questi sia l'indicatore della media mobile sia il nostro stocastico quindi il nostro oscillatore all'interno del grafico non faremo altro che andare a cliccare sul andiamo su stocastico se andiamo a cliccare col tasto sinistro andiamo a impostare ad aggiungere l'indicatore a nasconderlo vedete avete varie opportunità noi per esempio vogliamo impostare qui ci appare la nostra schermata e quindi possiamo andare a modificarlo nei parametri dettagliati se invece andiamo sempre su stocastico clicchiamo il tasto destro abbiamo altre opportunità aggiungi l'indicatore confronta lo strumento seleziona lo strumento quindi abbiamo delle caratteristiche diverse tra tasto sinistro e tasto destro qui abbiamo vedete proprietà del grafico rapporto dettagliato quindi abbiamo opportunità di fare altre cose quindi abbiamo queste caratteristiche se vogliamo andare sullo stocastico proprio per le proprietà dello stocastico vedete andiamo tasto destro sullo stocastico e si aprirà la stessa maschera che abbiamo aperto cliccando col tasto sinistro con impostazione stocastico quindi abbiamo molte opportunità per personalizzare il nostro oscillatore stessa cosa vale per l'indicatore che è posto sul grafico quindi indicatore posto sul grafico tasto destro media mobile adattiva proprietà si aprirà una maschera relativa alle proprietà della media mobile adattiva in questo caso si è aperta quello vedete del prezzo e della media mobile adattiva subito sotto media mobile adattiva e potete andare a personalizzare i periodi applicato a e quindi avete tutte le caratteristiche per poter personalizzare il vostro indicatore la ProRealTime si presta molto molto bene per quello che può essere la personalizzazione a livello dei grafici vedete che è tutto molto semplice poter andare a lavorare con la ProRealTime a livello grafico quindi avete queste possibilità qui sotto avete altri tipi di menu per esempio qui vedete gli ultimi tick passati su questo determinata tipologia di strumento quindi potete vedere i prezzi che scorrono in tempo reale avete la possibilità di aprire un order book direttamente da qua sotto quindi avete questa possibilità che poi come avevamo detto in precedenza potete personalizzare tramite appunto il flag di impostazioni personalizzato avete l'opportunità di duplicare un grafico vedete qui avete la possibilità di duplicare un grafico piuttosto che andare a impostare quelle che sono le caratteristiche del vostro grafico quindi si riapre la stessa maschera che abbiamo visto in precedenza tutto molto semplice qui potete ingrandire cioè ribicciolire o ingrandire il vostro grafico qui potete scorrere con la barra per vedere i punti diciamo del time frame che volete andare a visualizzare queste diciamo sono le caratteristiche principali della parte grafica di pro real time quindi tutto molto semplice nella parte in alto potete visualizzare le unità quindi per quanto riguarda i dati storici potete aggiungere unità anche che non sono predefinite qui potete vedere i time frame anche qui i time frame sono estremamente numerosi e potete anche andare a personalizzare i time frame come volete qui potete invece andare a modificare lo strumento in base anche agli strumenti per esempio che avete visto recentemente piuttosto che andare in ricerca avanzata e andare a inserire delle liste piuttosto che degli strumenti che vorrete andare a selezionare ma che non avete diciamo subito sotto mano tramite le ultime visualizzazioni vediamo adesso le ultime voci del menu rimanenti abbiamo impostazioni aiuto e la parte trading la parte trading l'avevamo già vista in precedenza posizioni aperte rapporto dettagliato performance lista ordini e pro order auto trading che invece la parte automatizzata allora le performance sono in basso a sinistra lo vedete è questo potete andare a vedere trading manuale automatico quindi potete andare a filtrare tutte le posizioni solo quelle long o quelle short e avete il calendario per poter valutare il periodo il time frame di riferimento oppure un periodo diciamo personalizzato per quanto riguarda le altre funzioni abbiamo posizioni aperte l'abbiamo visto in precedenza è questa diciamo schermata qui in basso quindi è il nostro praticamente il nostro portafoglio rapporto dettagliato abbiamo il nuovo rapporto dettagliato che possiamo andare aprire che così vediamo esattamente di che cosa si tratta questo è il rapporto dettagliato avete la possibilità anche qui di mettere statistiche delle posizioni chiuse grafico avanzato lista ordini o lista delle posizioni chiuse tutti gli strumenti oppure andare a selezionare diciamo uno strumento in particolare poi avete tutte le trade oppure quelle manuali in automatico e avete le posizioni long o short quindi avete varie opportunità per poter filtrare anche qui sempre per time frame personalizzato oppure time frame definito quindi avete molte opportunità nelle impostazioni poi potrete andare anche a inserire altre tipologie in modo tale da ampliare questa che è l'area della vostra dashboard e inserire delle informative in più che vi possono essere utili nella valutazione e nel rendere più completo il vostro rapporto dettagliato vediamo adesso invece le impostazioni avete piattaforma piani di lavoro trading e poi la possibilità di andare ad esportare in DDE vedete qui che abbiamo la possibilità di esportare in DDE questo è il DDE per esempio per forex e indici esportate in Excel tutte le linee sono le linee selezionate adesso qui diciamo che vogliamo per esempio tutte le linee e non farete altro che copiare il link ed andare a inserirlo all'interno del vostro file Excel ora adesso cerchiamo di aprire un file Excel per vedere come funziona allora apriamo il file Excel non farete altro che abilitare e andare aspettare esattamente che lui vada a comporre quello che è il vostro file Excel adesso ci vuole qualche secondo prima che possiamo vedere il risultato nel nostro foglio di lavoro attendiamo un attimo che lui faccia tutte le valutazioni ecco e qui in automatico vi apparirà vedete che è collegato in tempo reale e quindi vi apparirà il vostro foglio Excel agganciato in tempo reale a quella che è la ProRealTime per impostare invece la vostra piattaforma avete il menu imposta piattaforma qui potete cliccare vedete che potete andare veramente a personalizzare la ProRealTime in tantissimi modi differenti quindi queste sono le impostazioni menu di impostazione della piattaforma e infine avete il piano di lavoro anche qui la possibilità di andare a personalizzare il piano di lavoro in base a quelle che sono le vostre caratteristiche operative quindi è una cosa estremamente personalizzata anche le scorciatoie da tastiera per quanto riguarda il trading per quanto riguarda le interfacce potete andare a inserire quelle che sono le vostre scorciatoie che preferite avere diciamo per velocizzare il vostro modo di lavorare infine abbiamo le impostazioni per il trading anche in questo caso vedete che il menu è sempre lo stesso di impostazioni questo era il primo regato alla piattaforma questo è il secondo regato al piano di lavoro questo è il trading e poi avete le scorciatoie quindi il menu diciamo che è molto semplice molto intuitivo e quindi potete avete una curva di apprendimento molto ridotta e quindi è molto facile imparare come si utilizza la ProRealTime Infine abbiamo l'ultimo del nostro voce del menu da andare a vedere che sono il centro assistenza i tutorial interattivi i video e manuali qui veramente avete una possibilità estremamente ampia di avere un supporto alla programmazione manuali di aiuto sia per la piattaforma che per la programmazione dell'indicatore per la programmazione di sistemi di trading o per lo scan di mercato i video o i tutorial interattivi quindi veramente potete fare moltissimo attraverso questi strumenti perché la parte di supporto della ProRealTime è estremamente molto varia è molto viva vi dà possibilità di avere sia video che manuali cartacei quindi sfruttatela perché è estremamente vantaggioso poter andare a visualizzare tutte quelle che sono le funzionalità di cui magari non abbiamo parlato oggi ma che potete trovare all'interno dei manuali io vi ringrazio di aver seguito il nostro video tutorial legato alla piattaforma di ProRealTime mi raccomando iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti attivate la campanella se non l'avete ancora fatto in modo tale da restare sempre aggiornati con i prossimi video che andremo a fare vi ringrazio ancora e arrivederci a tutti